Beatrice Luzzi e Jane Alexander insieme a Celebrity Chef, il ritorno delle due attrici romane Il post congiunto delle scorse ore sui social aveva un significato ben preciso per Beatrice Luzzi e Jane Alexander, la coppia di attrici farà capolinea sul piccolo schermo a Celebrity Chef A dare la notizia è stato chef Alessandro Borghese, che in una foto delle riprese postata sui social ha in qualche modo annunciato la presenza delle due ex concorrenti del grande fratello Ed è la prova che Beatrice e Jane saranno nel suo famoso programma in onda sul 9, Celebrity Chef Le due attrici, quindi, si daranno battaglia ai fornelli per scoprire chi è più brava a cucinare secondo il parere di due giudici e dei commensali presenti nel ristorante Non sappiamo quando andrà in onda la puntata, ma quello che è certo è che le due rosse rifaranno Tappa sul piccolo schermo dopo le tensioni dei mesi scorsi, quando durante la permanenza nella casa dell'ex interprete di Eva Bonelli è spuntato a galla un retroscena riguardante il ruolo di Elisa di Rivombrosa, assegnato inizialmente alla Luzzi, ma poi finito tra le mani dell'Alexander seppellita l'ascia di guerra, come dimostra la foto postata nelle scorse ore, la coppia di attrici prepara il ritorno sulle scene nei prossimi mesi, dopo che per Bea sono saltate le teoriche partecipazioni a tale e quale show e come opinionista del grande fratello